posso aiutare no 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 grazie mi sto allenando grazie grazie gentile buona mano magari avevo perso le ispiranze come ti chiami giulia o cavoli giulia finché c'è vita c'è speranza vi aspettiamo domenica 16 settembre alla camminata della speranza da colle pepe a piedicolle io ci sarò eh a 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